Il progetto case è un caso, si passa il gioco di parole. In quello del nucleo industriale di Sassandra, la scuola dei Vigi del Fuoco, in fretta e furia, le famiglie sono state collocate altrove, tra polemiche e accordi alla fine arrivati. Le ultime sono uscite tra febbraio e marzo, ma oggi quelle case lasciate libere sono diventate preda dei ladri. Non ci sono più le piastre a induzione delle cucine, difficile pensare che sia stato il comune a toglierle perché porte e finestre sono sfondate, prese anche le placche delle prese per l'energia, uno scempio del quale si sono accorti alcuni ex inquilini. Lo scenario davvero inquietante, è tutto abbandonato e se non si pone riparo in poco tempo si riuscirà a portare via anche quel poco che è rimasto. Inoltre il carterlo che era stato messo per annunciare lo sgombero oggi cozza con queste immagini. Sul progetto case però oggi una riflessione seria, quella stimolata anche nel corso dell'ultimo consiglio comunale dal consigliere Enrico Verini che ha chiesto che si programmi un progressivo smantellamento se è questo quello che si vuole fare. Noi dobbiamo capire che abbiamo un patrimonio immobiliare abnorme, oggettivamente superiore a quelle che sono le necessità di questa città e dobbiamo dirci con molta franchezza che non avendo la necessità abitativa di cui è capace il progetto case è probabilmente ipotizzabile che una gran parte di questo progetto case rimarrà disabitato, ma quando un luogo rimane disabitato, incustodito, purtroppo attira il peggio e quindi io temo che se oggi non facciamo una programmazione in cui decidiamo quanta parte del progetto case smantellare, perché non serve, quale tenere e che destinazione dargli, noi avremo problemi immensi, problemi perché sarà un ricettacolo di delinquenza, di degrado e di abbandono e aggiungo ci vuole anche un'azione immediata di razionamento, di diciamo di razzocinio del progetto case. Oggi abbiamo interi complessi abitati in una percentuale molto bassa e in ognuno di questi complessi c'è una popolazione in questo momento residente che a volte è anche il 10-20% rispetto alla possibilità complessiva. Bisognerebbe cercare di razionalizzare la questione, cercare di prendere le persone che abitano il progetto case, collocarle cercando di riempire tutti quegli spazi e poi di quelli che rimangono vuoti ovviamente va scelto cosa fare. A mio parere l'80-90% del parimonio immobiliare del progetto case va smantellato.